Io lo so che è una battaglia persa, lo so, me lo dicono tutti, però ogni volta io mi sorprendo perché è meraviglioso. Cioè, siamo messi malissimo, siamo messi malissimo perché agenzie e pratiche amministrative di tal dei tali cercasi domestica Bologna, zona Murri, ricerche in corso domestica donna live in Bologna, zona Murri. Qual è il senso della domestica donna live in Bologna, via Murri? Una donna che vive a Bologna, zona Murri. No, ci hanno cacciato dentro quel live per far vedere che noi siamo degli sboroni. Ma io non capisco come può. E poi, e poi, aspetta, aspetta. Power Academy Miglioramento Sentimentale e Sociale Player Lover Seminar Tour è il primo seminario teorico da quando Play Lover è in attività. Scegli la tua città e vieni ad imparare il Play Lover Seminar Tour. Cioè, ma siamo messi così veramente? Cioè, siamo messi così? Sì, e alla fine questa qui, queste che fanno le foto contro lo specchio, queste influencer, che non si vede neanche la faccia perché c'è il cellulare, però pur di farsi fotografare, però poi questa ha aggiunto sotto una cosa fantastica, questa. Adoro questo fit dei nuovi Levis. Lei adora questo fit dei nuovi Levis, capito? Il fit te lo devi ficcare? Sai dove te lo devi ficcare il fit? Non te lo dico. Non te lo dico perché ti passo direttamente al reparto smerigli. Il smerigli ce n'è di tutti i tipi. E lì ti dicono cos'è il fit. E ti fanno anche vedere come usarlo.